Ciao ragazzi e benvenuti sul canale di MyMathematica, oggi come leggete vediamo equazioni di grado superiore al secondo. Benvenuti ragazzi in questo nuovo video, mi raccomando prima di partire se questi contenuti sono di vostro gradimento non dimenticate di lasciare un like, iscrivervi al canale, attivare la campanella e condividere il video con tutti i vostri amici. Il video di oggi è dedicato a Vanessa, una ragazza che mi sta seguendo e ha chiesto un mio aiuto su Patreon. Vanessa ci scrive da Palermo e ci chiede un video sulle equazioni di grado superiore al secondo. Se anche voi come Vanessa avete bisogno di un supporto scrivetemi nella mia mail che trovate nella zona informazioni del mio canale o altrimenti su Patreon, meglio ancora, così riesco a capire bene di cosa avete bisogno. Insomma, senza perdere troppo tempo parliamo di equazioni di grado superiore al secondo. Il video di oggi sarà abbastanza complesso e lungo, quindi tenete duro e rimanete con me fino alla fine perché vi lascerò un esercizio che voi potrete provare a fare da soli scrivendo le vostre soluzioni qua sotto nei commenti. Da io e Vanessa mettiamocela tutta e cerchiamo di capire come sono strutturate queste equazioni di grado superiore al secondo. Premetto ragazzi che prima di partire io come al solito vi lascio qua su in alto la playlist in cui vado ad inserire questo video mondo equazioni e disequazioni. In ogni caso, per seguire il video di oggi è importante saper fare le scomposizioni dei polinomi e risolvere alla grande le equazioni di secondo grado. Questi sono i contenuti che darò un po' per scontato visto che il video comunque è abbastanza avanzato. Allora, cominciamo subito col dire che le equazioni di grado superiore al secondo si dividono in tre grandi categorie, le equazioni binomie, le equazioni biquadratiche e quelle che sono da scomporre. Ovviamente esiste anche un mix di queste categorie, quindi potrei mischiarle tra di loro. In ogni caso cerchiamo di capire come sono fatte, come si risolvono e come funzionano. La prima categoria che voglio affrontare sono le equazioni binomie. Allora, come le riconosco le equazioni binomie? C'è la mia x che devo trovare elevata ad una certa potenza n. n è un numero maggiore o uguale di 3, perché altrimenti non si chiamerebbero equazioni di grado superiore al secondo. Quindi alla terza, alla quarta, alla quinta e così via. a e b sono numeri qualsiasi. Quindi l'importante è che a non sia 0, perché se a fosse 0, 0 per x alla n manderebbe tutto via e quindi non sarebbe più un'equazione. Esempi, che cosa intendo con questa scrittura? Intendo ad esempio 2x alla sesta più 3. Vedete, x alla n sarebbe x alla sesta, dove n vale 6, un'equazione di sesto grado. Un quinto x alla decima meno 1. Eccolo qua, x alla decima è il mio x alla n, quindi un'equazione di decimo grado. E così via, 0,2x alla quinta più radice di 2 uguale a 0, x alla n è il mio x alla quinta, quindi equazione di quinto grado. Si chiamano binomie perché ci sono solamente due termini e c'è x elevato al grado massimo. Quindi non ci sono altre x, tipo x di grado inferiore al 5, se prendessi questa in esame. Ok, andiamo al sodo però. Come si risolvono? Beh, dipende dal grado, cioè dipende da n. Dobbiamo distinguere due casi. Il caso in cui n è dispari, quindi alla terza, alla quinta, alla settima, che cosa faccio? Isolo la x ed estraggo la radice ennesima. Vediamo con un esempio di che cosa sto parlando. Allora, noi vogliamo risolvere, primo esercizio di oggi, 5x alla terza più 10 uguale a 0. Che cosa faccio? Devo lasciare la x da sola. Quindi prendo il 10, lo porto a destra e cambio disegno. Poi che faccio? Per lasciare la x da sola, divido per 5, divido per 5 in modo da semplificare 10 e 5 ottenendo meno 2 e 5 e 5 ottenendo 1. Ok, qui arriva la parte importante. Devo estrarre la radice ennesima. Per lasciare la x da sola andrò a mettere la radice terza, perché c'è scritto x alla terza. Se c'è la x alla quinta, radice quinta. 3 e la radice si semplificano, quindi la x, come vedete, rimane da sola. E la radice la vado a mettere anche di qua, quindi quello che faccio da una parte lo devo fare pure dall'altra. Ora che succede qua? Succede semplicemente che il meno lo porto fuori, quindi otteniamo meno radice cubica di 2. Questo è il nostro risultato. L'esercizio è fatto. Quindi lascio la x da sola e strago la radice ennesima. Facciamo un altro esempio per capirci meglio. Esempio 2. 2x alla nona meno 54 uguale a 0. Vedete, il 54 l'ho spostato a destra. Il 54 lo vado a semplificare con il 2, facendolo diventare 27. 27 lo scrivo 3 alla terza. Perché? Perché arrivati a questo punto abbiamo detto, per lasciare la x da sola, metto la radice nona. Metto la radice nona. Ora, 9 e la radice si vanno a semplificare, perché sono una l'operazione inversa dell'altro. E ricordando un po' le proprietà dei radicali, guardate qui che succede. 9 e 3 sono tra di loro semplificabili. Quindi, divido per 3. 3 diviso 3 fa 1. E 9 diviso 3 fa 3. Quindi, in verità, non c'è rimasta una radice nona, ma c'è rimasta una radice cubica di 3 alla prima, cioè di 3. Quindi, radice cubica di 3 è il risultato di questa equazione. Bene. Andiamo a vedere il caso in cui il grado è pari, quindi elevato alla quarta, alla sesta o all'ottava. Qui la situazione è un po' più delicata. Prima cosa da fare è isolare la x, come abbiamo fatto prima. Estraggo la radice, come abbiamo fatto prima, ma mi devo ricordare di inserire la doppia soluzione, cioè il più e il meno. Vediamo che vuol dire. Prendiamo l'esempio che abbiamo qua. x alla quarta meno 81. Questo è il terzo esempio che avevo in mente per oggi. Beh, la x deve stare da sola, quindi il meno 81 lo porta a destra e diventa positivo. Abbiamo detto che devo estrarre la radice. Che vuol dire estrarre la radice? C'è scritto x alla quarta, io metterò radice quarta, metterò radice quarta. Ora 4 e 4 si semplificano, quindi rimane solamente la x. E qua devo inserire il doppio segno, doppia soluzione, quindi più e meno non me lo devo mai dimenticare. E poi mi dico quanto fa la radice quarta di 81. Se non ci riesco a mente, utilizzo la calcolatrice e scopro che fa 3. Quindi la nostra equazione x alla quarta meno 81 uguale a 0, come vedete, ha ben due soluzioni. x uguale più o meno 3. È giusto dire due soluzioni? La risposta è no. Per essere precisi, le soluzioni sono 4. Ma come sono 4 se ne è scritte solo 2? Perché ognuna di loro va contata due volte. Quindi è come se fosse più 3 più 3, meno 3 meno 3. Vabbè, ma fatto sta che scritto così queste sono le nostre soluzioni e l'esercizio è terminato. Dove sta l'inghippo che mi devo ricordare di mettere più e meno? Doppio segno, doppia soluzione. Vediamo un altro esempio. Esempio 4 di oggi. Voglio risolvere 2x alla sesta meno 128 uguale a 0. Il 128 va di là, divido per 2 così si semplifica tutto e 128 diviso 2 fa 64. Bene, ora c'è da estrarre la radice. x alla sesta? Bene, mettiamo radice sesta. Mettiamo radice sesta. 6 e 6 si semplifica. Che cosa non mi devo dimenticare di fare? Di inserire il doppio segno. Quindi, più o meno, doppia soluzione. E poi calcolo radice sesta di 64 che, se lo so fare al volo in mente, è facilissimo perché fa 2, altrimenti vado ad utilizzare la calcolatrice. Più e meno 2 sono le soluzioni della nostra equazione. Vediamo adesso però una situazione un po' più strana perché non è tutto rosa e fiori. Ok, esercizio 5 di oggi. 5x all'ottava più 1 uguale a 0. Guardate che cosa succede. Come al solito, dobbiamo lasciare la x da sola. Quindi prendo l'1, lo porto a destra e diventa meno 1. Arrivato qua, voi dite, va, che faccio? Faccio fratto 5, così si semplifica, fratto 5. Qui io mi fermo subito e vi scrivo che la soluzione è impossibile. Perché dico che questa equazione non ha soluzione? Guardate qua sotto, ho fatto un'osservazione. Le potenze pari generano numeri positivi. Cioè, se io prendo un numero, lo faccio all'ottava, questo numero, avendo una potenza pari, è sicuramente un numero positivo. Se un numero positivo lo moltiplico per 5, 5 per un numero positivo può dare un risultato negativo? Assolutamente no. Quindi, non andate quando il grado è pari, x alla quarta, x alla sesta, x all'ottava, x alla decima, non andate a memoria mettendo sempre la radice come nei due esercizi precedenti, ma usate gli occhi. Se dopo l'uguale dovesse venire un numero negativo, scrivete subito che la soluzione è impossibile. Questo che abbiamo appena visto è il quadro sulle equazioni di grado superiore al secondo di tipo binomie. Bene, come vedete da questo schema generale, ovviamente ho preparato un po' tutto, quindi andiamo adesso a vedere la seconda categoria, le equazioni biquadratiche. Innanzitutto, come le riconosco? Le riconosco da questa particolare forma, ax alla 2n più bx alla n più c. Ora, n rappresenta il grado di partenza, 2n il grado finale, quindi che vuol dire? Che se n fosse uguale a 5, 2n sarebbe uguale a 10, cioè il doppio di n, quindi avremo un'equazione di decimo grado. a, b e c sono numeri qualsiasi, l'importante è che a non sia 0, ed n deve essere maggiore o uguale di 4 nel suo complesso. Quindi questa scrittura significa che l'equazione nel complesso partirà dal grado 4. Se proprio uno volesse essere iperpreciso, inserirebbe che 2n deve essere maggiore o uguale di 4, quindi n deve essere almeno 2. Esempi, vediamo che cosa intendo. E cosa intendo per equazioni di questo tipo? Guardate qua, 3x alla quarta meno x alla seconda più 11, questo è il nostro x alla n. 2n vuol dire che questo è stato fatto per 2, 2x2 fa 4. Insomma, guardate quello a fianco, qui c'è 5, qui c'è 10. Queste equazioni le riconosco perché una potenza è il doppio dell'altra. Quindi una potenza è il doppio dell'altra. Se succede questo, sono di fronte ad un'equazione biquadratica. Bene, come si risolvono queste equazioni? Semplicemente, come leggete qua, uso la sostituzione x alla n uguale a t. E lavoro su una classica equazione di secondo grado. Cerchiamo di capire questo che significa. Primo esempio di questa categoria. Esempio 6 di oggi. Voglio risolvere questa equazione. x alla sesta più 5x alla terza più 6 uguale a 0. Allora io che faccio? Prendo la potenza centrale, quindi x alla terza, e dico da questo momento in poi x alla terza è uguale a t. Se x alla terza è uguale a t, beh, qui dove c'è x alla terza chiaramente ci vado a mettere t. Ma dove c'è x alla sesta? Beh, per andare da x alla terza a x alla sesta abbiamo fatto un per 2. E quindi non avremo un semplice t, ma un t alla seconda. Quindi, come detto, adesso, grazie a questa sostituzione, lavoro su una classica equazione di secondo grado. Prendete la vostra equazione di secondo grado e ve la risolvete come volete. Questa è una cosa che vado a dare per scontato in questo video. Quindi, volete usare la formula? Usate la formula. Volete scomporre come se fosse un trinomio speciale? Scomponete. Risolta la vostra equazione, confermate qua sotto se trovate le soluzioni t uguale 2, t uguale 3. Mi raccomando, usate la t, non la x, perché la nostra equazione è con la lettera t. Ok, qui arriva la parte bella dell'esercizio. Ma chi è t? Ve lo ricordate chi è t? T, guardate un po', l'abbiamo scritto qua su in alto, t è x alla terza. Quindi io adesso farò questo. Al posto di t ci vado a scrivere x alla terza uguale 2 e sotto x alla terza uguale 3. Ma queste che sto andando a scrivere, ragazzi, non sono per caso equazioni binomie come quelle che abbiamo affrontato prima? E quindi come le risolvo? Visto che la x sta da sola, estraggo la radice, in questo caso radice cubica, estraggo la radice cubica, quindi a sinistra, al primo membro, la radice si semplifica con la potenza e che cosa ci viene fuori? Ci viene fuori che x è uguale alla radice cubica di 2 e che x è uguale alla radice cubica di 3. Queste sono le soluzioni della mia equazione biquadratica. Che cosa dovete stare attenti? Una volta che avete trovato le t, mi raccomando, l'esercizio non è finito. Ricordatevi di passare al mondo delle x. Come faccio? Attraverso la sostituzione che avevo creato all'inizio. Vediamo un altro esempio. Esempio 7 di oggi. Voglio risolvere questa equazione. x all'ottava meno 2x alla quarta meno 8 uguale a 0. È un'equazione biquadratica? Sì, perché 8 è il doppio di 4. Se qui ci fosse stato scritto un 6, un 7, un 5, questa non era un'equazione biquadratica e questo metodo non funzionava. Usiamo la sostituzione che abbiamo visto. Prendiamo la nostra potenza centrale, magari senza cancellare niente, e diciamo che il nostro x alla quarta deve essere uguale a t. Voi lo sapete fare? Scrivetemelo qua sotto nei commenti. Bene, facciamo la nostra sostituzione. Da questo momento in poi x alla quarta si chiama t. Quindi al posto di x alla quarta ci metto t e visto che x all'ottava è la potenza doppia, scriverò t alla seconda. Vedete? Le promesse vanno mantenute. Ho una bellissima equazione di secondo grado. La vado a risolvere come prima. O con la formula o con le scomposizioni. Fate come vi pare. Fatto sta che alla fine dei calcoli otteniamo t uguale 4 e t uguale a meno 2. Ho finito? Assolutamente no. Allora, devo passare all'equazione con la lettera x, perché io non voglio le t, voglio le x. Chi è t? Beh, t, leggete qua su in alto, è x alla quarta. Quindi abbiamo che x alla quarta è uguale a 4 e che x alla quarta è uguale a meno 2. Queste sono equazioni binomie. Quindi che faccio? Estraggo la radice quarta e strago la radice quarta. Quando estraggo la radice quarta, osservo che 4 e 4 si va a semplificare. E che cosa succede alla prima riga? Scriverò, visto che la potenza è pari, che x è uguale a più o meno, come abbiamo visto prima, ve lo ricordate? Radice quarta di, il 4 lo posso scrivere come 2 alla seconda. In questo modo posso andare ulteriormente a semplificare il 2 con il 4. 4 diviso 2 fa 2 e il 2 diviso 2 fa 1. Ottengo quindi più o meno radice quadrata, quel 2 posso anche non scriverlo, di 2. Questa è la prima soluzione, la prima coppia di soluzioni. Adesso lavoriamo sulla seconda. Sulla seconda, vi ricordate l'osservazione che abbiamo fatto prima? Guardate la potenza. Una potenza pari può dare un numero negativo? Un numero elevato alla quarta può essere negativo? La risposta è no. Quindi da questa equazione blu abbiamo un risultato impossibile, cioè non ci sono soluzioni. Quindi le uniche soluzioni sono solamente più o meno radice quadrata di 2. Abbiamo quindi con questo fatto due esempi importanti sulle equazioni biquadratiche. Qual è l'osservazione? L'osservazione fondamentale che mi sento di fare è che devo saper risolvere le equazioni di secondo grado alla perfezione e velocemente. Perché se le equazioni di secondo grado non le so risolvere, come faccio a passare da questa a queste due soluzioni? E quindi come faccio a terminare l'esercizio? Inoltre avete visto che per risolvere le biquadratiche dovete utilizzare le tecniche delle equazioni binomie che vi ho spiegato all'inizio di questo video. Quindi mettiamo tutto insieme. Andiamo adesso a vedere l'ultima categoria di queste equazioni, cioè le equazioni di grado superiore al secondo da scomporre. E come si riconoscono? Beh, non rientrano nelle categorie precedenti. E come si risolvono? Usando i classici metodi di scomposizione. Se siete un po' indietro con le scomposizioni, vi consiglio di andare nella playlist dedicata al mondo della divisibilità e della fattorizzazione. Sul mio canale trovate tutte queste tecniche, soprattutto ruffini, perché è molto molto utile. Andiamo a vedere gli ultimi due esempi per oggi. Bene, l'esercizio 8 che avevo in mente per voi è questo. Risolvere la seguente equazione. x alla terza meno 3x alla seconda meno 3x più 9 uguale a 0. Voglio usare come tecnica il raccoglimento parziale. Quindi vado a creare delle coppie e vado a fare dei raccoglimenti. Nella prima coppia raccolgo x alla seconda. Nella seconda coppia raccolgo il 3, perché tra 3 e 9 si ripete il 3. Raccogliendo x alla seconda otteniamo x meno 3. Di qua raccolgo il segno negativo insieme al 3. Perché? Perché se raccolgo il meno, questa x diventa positiva. Perché? Perché meno per più fa meno. Se raccolgo poi il segno meno, meno per meno fa più 9 e 3 per 3 ovviamente fa 9. In questo modo le mie parentesi sono uguali. Le vado a raccogliere. Quindi di nuovo un raccoglimento totale. x meno 3 lo scrivo una sola volta e poi in un'altra parentesi vado a mettere i pezzettini che sono rimasti fuori. C'è scritto uguale a 0. Lo 0 è una mano santa in matematica perché ci permette di spezzare in due parti l'equazione. Quindi è come se noi adesso prendessimo x meno 3 uguale a 0. E poi x alla seconda meno 3 uguale a 0. Quindi le vado a dividere in due parti e le andiamo a risolvere. La prima è un'equazione di primo grado e ottengo x uguale a 3. Ho spostato il 3 a destra. La seconda è un'equazione di secondo grado. Quindi x alla seconda è uguale a 3. Poi che cosa faccio? Metto la radice quadrata. Mettendo la radice quadrata x finalmente rimane pulita da sola. Devo andare a mettere il doppio segno e la radice quadrata di 3 fa semplicemente radice di 3. E quindi abbiamo ottenuto le nostre soluzioni. 3 più radice di 3 meno radice di 3 usando il raccoglimento parziale. Come vedete questa non è binomia. Per essere binomia ci doveva essere scritto solo x alla terza. Non è biquadratica perché nessuna potenza è il doppio dell'altro. E poi ci sono tutte potenze miste che non aiutano. Quindi ne sono uscito vivo tramite il raccoglimento parziale. Andiamo avanti. Ultimo esercizio che prevedo per oggi. Voglio risolvere questa mega equazione. x alla quarta meno 5x alla terza più 2x alla seconda più 20x meno 24 uguale a 0. Un'equazione così complessa e così lunga molto probabilmente prevede l'utilizzo di Ruffini. Vi ricordate come funziona Ruffini? Se non ve lo ricordate correte sul mio canale e cercate scomposizione con Ruffini e vedete come si fa. In ogni caso la prima cosa che faccio è cercare i divisori di 24 che sono più o meno 1, più o meno 2. Insomma tutti questi sono una marea. Comincio a mettere una volta questi numeri all'interno della mia equazione al posto della x finché non ottengo 0. Se ci metto più 1 ottengo meno 6 e non va bene perché devo ottenere 0. Se ci metto meno 1 non ottengo 0, quindi non va bene. Ma se ci metto 2 vedete che succede? Se ci metto 2 diventa 2 alla quarta fa 16. Poi il 2 lo metto qua, quindi 2 alla terza fa 8, 8 per 5 fa 40. Il 2 lo metto qua, quindi 2 alla seconda fa 4, per 2 fa 8. Il 2 lo vado a mettere qua, 20 per 2 fa 40. E quando vado a fare i miei conti guardate un po', meno 40 più 40 va via. 16 più 8 fa 24, meno 24 fa 0. Mi ha detto bene. Il mio numero fortunato è quindi il 2. Vado a fare la solita tabella che caratterizza Ruffini. Come si fa questa tabella? Da dove vengono questi numeri qua? Chi sono questi numeri? Questi numeri sono i coefficienti, cioè i numeri che stanno davanti alle x presi con il loro segno. Qua giù in basso vado a mettere il 2, cioè il numeretto che ho appena trovato. Andiamo a fare insieme Ruffini. Abbasso l'1. 1 per 2, 2. Sommo. Meno 5 più 2 fa meno 3. Meno 3 per 2 fa meno 6. Vado a fare la somma. 2 più o meno diventa meno, quindi 2 meno 6 fa meno 4. Meno 4 per 2 fa meno 8. 20 meno 8 fa 12. 12 per 2 fa 24. Meno 24 più 24 fa 0. Guardate come utilizzo questi numeretti. Questo più 2 lo utilizzo per creare un polinomio di primo grado. x meno 2. Mi devo ricordare di cambiare il segno. Quindi se avessimo avuto meno 2 avrei scritto più 2. Cambiate il segno. Tutti questi altri termini che vedete qua servono a scrivere un nuovo polinomio di grado inferiore rispetto a quello di partenza. Vi ricordate che la nostra equazione era di quarto grado? Andiamola a vedere. Eccola qua. C'era scritto x alla quarta. Quindi adesso questi termini creeranno un'equazione di terzo grado. Quindi 1x alla terza. Meno 3x alla seconda. Meno 4x. Più 12. Ok. Arrivati a questo punto tutto questo deve essere risolto uguale a 0. Bene. Qual è il problema? Il problema è che questo oggetto è ancora un'equazione di terzo grado. E la dobbiamo scomporre perché non è binomia, perché non è biquadratica. Insomma è un bel casino. Possiamo utilizzare però il raccoglimento parziale. Quindi creiamo due coppie e andiamo a scomporle. Allora, senza dimenticarci niente. x meno 2 lo vado a ricopiare. Qui apro per ora una parentesi quadra. Vediamo un po' cosa posso fare. Tra x alla terza e x alla seconda raccolgo x alla seconda. Che quindi moltiplica x meno 3. Poi, meno 4x e più 12. Se vedete, il 4 è un fattore comune. Quindi raccolgo meno 4. Avendo raccolto il segno meno, stiamo in campana. Qui ci metto solamente x. È giusto? Facciamo la prova. Meno 4 per x fa meno 4x. Quindi ho fatto bene. Qua mi deve venire un più 12. Quindi mi conviene mettere un segno meno e mettere un 3. Ho fatto bene? Meno 4 per meno 3 fa più 12. Sì, ho fatto bene. Uguale a 0. Bene. Adesso, che cosa osservo? Osservo che queste parentesi si ripetono. Quindi le vado a scrivere una volta sola. x meno 3 lo scrivo una volta sola. Ricopio questo x meno 2. Mi raccomando di non dimenticarlo. E in un'altra parentesi scrivo questo x alla seconda e questo meno 4. perché sono i pezzi che rimangono uguale a 0. Quando c'è l'uguale a 0 abbiamo detto prima posso separare i fattori e metterli una alla volta uguale a 0. Quindi scriviamo. Abbiamo x meno 2 uguale a 0, poi sotto x meno 3 uguale a 0 e poi x alla seconda meno 4 uguale a 0. Risolvo queste equazioni. La prima è di primo grado, quindi x uguale a 2. La seconda è di primo grado, facile. Sposto il 3 di là. x uguale a 3. Quest'altra è di secondo grado. Quindi scrivo x alla seconda uguale a 4. Beh, equazioni di secondo grado, estraggo la radice, semplifico il 2 con il segno di radice, andiamo avanti e ricordiamoci di inserire il doppio segno. Quindi x uguale più o meno, doppia soluzione perché è un'equazione di secondo grado, la radice quadrata di 4 fa 2. Insomma scriviamo bene le soluzioni. 2 sta sia qua che qua. Quindi abbiamo x uguale a 2. Punta e virgola. x uguale a 3, punta e virgola. x uguale a meno 2. Abbiamo quindi risolto la nostra equazione di quarto grado usando prima il metodo dei ruffini e poi un raccoglimento parziale. Insomma abbiamo fatto veramente tante cose. Le promesse sono promesse. Guardate questa equazione. x alla sesta più 11 uguale a 0. È un'equazione binomia. Provate a risolverla e scrivete le vostre soluzioni qua sotto nei commenti. Un saluto grande a Vanessa, a cui quindi ho dedicato questo video. Un saluto grande a tutti quanti voi. Il video di oggi finisce qua. E noi ci vediamo al prossimo. Ciao belli. Ciao Vanessa. Ciao Vanessa.